Cvaracella Non mi pensi contro la visita Cavacella Cv ellas Cvarasquel 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 Questo è il momento perfetto per dire a tutta l'Italia, a tutti i tifosi del Napoli come si pronuncia il tuo nome. I primi contatti con il Napoli, quando hai saputo che il Napoli era interessato a te, che cosa hai pensato, come sono nati? Quando ho dato un po' di interessi, mi sono interessato a te, ma in realtà mi sono interessato a te e a te perché mi sono interessato a te, ma anche a te che mi sono interessato a te. Sai se c'erano altre squadre italiane che ti hanno seguito in quel periodo? Aspettate, non mi sono interessato, ma io non mi sono interessato a te, ma io non mi sono interessato a te, ma ho risposto a te. Come mai volevi giocare al Napoli? Perché? Che cosa ti hanno detto? Come mai volevi giocare al Napoli perché? Che cosa ti hanno detto? Io avevo 1.10 amici starvi per... Vedi 6 amici per thumbs, mi avevo scattato ai nostri giovani e mi erano davanti a casa. In questo tipo di amico ho scattato a Napoli. Quando noi riuscimo arire il Napoli, abbiamo scattato alla nostraprezzazione. Il nostro corso il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Scegli il tuo soprannove preferito? www.mesmerism.info 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 Grazie, grazie a tutti. Il difensore più difficile da affrontare che fin qui ha affrontato? No, io ho detto che non è più difficile da affrontare, ma non è più difficile da affrontare, ma non è più difficile da affrontare. Forte? Fortissimo. Ti ha capito ormai? Ora, non è più difficile da affrontare. Sei scaramantico? Ora. Si può pronunciare la parola scudetto? Si può pronunciare la parola scudetto? Si può pronunciare la parola scudetto? Tutti mi ha fatto dire. Se non lo vedi, mi guardo加eli a mezzo. Quindi, tutto il futuro dal il futuro, mi credo che questo non è più difficile da affrontare. No, quella davvero più difficile? Non le credo che si può pronunciare la parola scudetto. Si può pronunciare la parola scudetto? E' un'altra cosa che mi chiedeva, mi chiedeva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.